La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo L'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa di questo sabato 26 agosto una rassegna stampa che apriamo leggendo le prime pagine dei quotidiani oggi ne dicono e lo facciamo partendo dal mattino di Napoli in primo piano il caso del terremoto di Ischia i dati tutti sbagliati dopo la denuncia del mattino l'osservatorio rivede anche la profondità a 2 e non a 5 km scoppia la polemica Ischia ha usato i modelli inadeguati epicentro a casa Micciola e non in mezzo al mare il caso il sindaco del sisma imputato per abusi e dirizzi a casa sua il commento la scienza gli strafalcioni che fanno male di generoso picore a centropagina torna l'incubo terrorismo Bruxelles e Londra attacco ai poliziotti sgomberi dei migranti c'è la stretta di Minniti circolare ai prefetti commissariati i comuni i migranti subaffittano il palazzo occupato a Roma scoppia la lite tra Fico e Di Maio l'analisi il vero fallimento della politica che non previene in taglio basso il caso dell'ospedale di Loreto Mare morto al Loreto Mare sette indagati il giovane lasciato quattro ore in codice rosso sotto accusa medici e infermieri ancora il caso il paese con meno studenti e più professori per lo sport invece sirene di mercato per Reina che vuole il Paris Saint Germain e braccio di ferro la rabbia di Sarri una brutta storia gestita male è l'editoriale di Francesco De Luca lasciamo la prima pagina del mattino ma restiamo sul quotidiano partenopeo andando ad approfondire quella che è la notizia di apertura terremoto quattro giorni di dati sbagliati casa micciola epicentro della scorsa l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia fa dietro fronte ammette l'errore il sisma non è localizzato a mare la direttrice il nostro compito è fornire subito le indicazioni per i soccorsi poi si studia il fenomeno non c'è stato alcun guasto abbiamo perso per qualche secondo soltanto un segnale l'ex dirigente è possibile un tale errore se lo schema della velocità è campato in aria chi era di turno al momento del sisma ha utilizzato un modello non idoneo lunedì le stazioni di allerta sull'isola non erano tutte in funzione ricostruita così in blocco quello che è stato l'errore fatto in merito ai rilevamenti del terremoto che è avvenuto nella isola di Ischia un terremoto che ha scatenato tante polemiche l'analisi del mattino tagli, sprechi e guerra ai vertici lento declino dell'ente di ricerca pochi fondi e sempre meno uomini destinati al monitoraggio troppe carenze di missione raffica con l'addio del direttore Mazza questa è un po' la sintesi della situazione definisce assurdi gli errori degli errori della nuova gestione mix di stupidità e incompetenza le dice Enzo Boschi 28 anni di carriera all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di cui 12 anni alla presidenza le sue parole suonano come proprio un monito e un'accusa davvero davvero molto forte l'epicentro a Casamiccia la bastava la tv per capire un flop incredibile queste dunque le parole dell'ex direttore Enzo Boschi lasciamo questo episodio per tornare alle prime pagine e alla pagina salernitana del mattino veleni della Movida scattano dalla Movida scattano i blitz centro storico scarichi fantasma delle cucine dei locali raffica di denunce dei residenti in ritardo gli interventi di adeguamento alle nuove regole inchiesta dei vigili urbani prima ispezione in pub e frigitorie nocere inferiore caos tra i grillini spinella attacca troppe congiure ad eboli invece bando migranti cantone indaghi su quelle cop poi ancora l'allarme calcinacci giù dal ponte della lungo irno traffico in tilt inoltre sgrida il passeggero teppista calci insulti al conducente assassino ennesimo assalto bus Italia pronta ad assumere vigilante stazionato il freno d'emergenza interviene l'autista aggredito la situazione ormai è insostenibile la paura si allontana dal padre sale sul bus a 4 anni bimba salvata a Napoli per lo sport invece la fotonotizia salernitana finalmente si alza il sipario bollini tenta lo scatto con il tridente bocalon caccia di un altro gol dell'ex quest'oggi contro il venezia questa era l'apertura del mattino dedicata al Salerno andiamo ora sulle altre prime pagine sulle cronache del salernitano caccia al terrorista clamoroso blitz dei ross controllate nove abitazioni a scafati si cerca un marocchino presenti i militari dell'api sono attenzionate diverse moschee abusive tra l'agronocerino e i paesi vesuviani la cronaca rapina al cashmania in via delle calabre tra le persone con il volto coperto hanno fatto irruzione nell'attività commerciale portando via 2.000 euro braccio di ferro tra i portatori e il sindaco di Salerno Enzo Napoli San Matteo i fuochi saranno pagati dai fedeli ma per spararli serve il permesso del comune lunedì incontro decisivo Monte Corvine orrore ritrovati impiccati due cani assassini poi ancora Salerno aggredito autista del bus della linea 4 Luca Cirillo poi ancora lo sport salernitana la verità di Bollini può far sol bene Granata vigilia movimentata per l'esordio di stasera della formazione di Lotito a Venezia per le crude parole del tecnico i tifosi sperano in un avvio scoppiettante in uno stadio carico di dolci ricordi oggi l'esordio anche della Paganese in Lega Pro contro il Bisceglie lasciamo l'apertura di le cronache del salernitano e chiudiamo la carrellata delle prime pagine andando a leggere l'apertura della città di Salerno sotto il gioco delle vaccinazioni più complicata l'apertura dell'anno scolastico uffici preparati a gestire nuove funzioni ha auspicato un intervento delle ASL mentre il carolibri tormenta le famiglie questa è la situazione poi ancora una potente lobby proprietari di case impediscono gli interventi edilizi a Roma sgomberi a Roma speccati i 5 stelle De Maio e Fico agli antipodi sparisce una bambina terrore a nocera si è temuto il rapimento poi così non è stato turismo Grecia chiama Salerno la ricetta di Ippocrate poi ancora leggiamo la storia attraverso i giudici grande da fuga da nocera jeep sbarcano a Salerno altre trettoche pronte a salpare spettacoli Max Gazea Padula a Pestum invece c'è Servillo per lo sport Salernitana assalto al Venezia con il vecchio gruppo testimonio a Taipei per le universiati invece oggi in campo tre anticipi della Serie A il big match a Roma tra Roma e Inter questa era la prima pagina della città di Salerno noi con la città chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa ci vediamo dopo la pubblicità per la seconda parte seconda parte dell'edizione della rassegna stampa di questo sabato 26 agosto una seconda parte che ci porta a leggere le pagine interne dei quotidiani o ginedicola e partiamo subito da le cronache del Salernitano il ladro gli ruba i soldi in casa il nonno derubato lo accoltella moio della civitella l'84enne raggiunge il 45enne lo ferisce con un coltello da cucina il furto nell'abitazione dell'anziano che dormiva l'intruso arraffa 80 euro e viene inseguito Sant'Arsenio un impianto del comune a Biomassa per il mattatoio e una zona sport notizie di cui vi abbiamo dato conto anche nella giornata di ieri a Castellabate invece morto in barca il papà dei pescatori Vincenzo Afflitto 80 anni colpito da un malore mentre navigava a Santa Marina abusivismo il comune denuncia la comunità montana l'ha scoperta in occasione di un sopralluogo della polizia locale Pestum concerto dedicato al mare con Sara Falanga questo l'appuntamento di questa sera all'interno del parchio archeologico di Pestum presso il Tempio Nettuno queste le notizie riportate dalle cronache del Salernitano nella pagina dedicata alla parte sud della provincia di Salerno ora ci spostiamo invece sulla pagina valdianese della città dove in primo piano scoppia il caso o meglio viene riportato il caso degli uffici del giudice di pace e ancora guerra con Sapri infatti la città del golfo di Policastro attende la decisione del Tar sul ricorso il sindaco Cavallone appogge il decreto ministeriale e difende la sede nel Vallo di Riano resta ancora in sospesa la vicenda giudiziaria pendente davanti al Tar di Salerno dopo il ricorso presentato dal comune di Sapri contro il provvedimento contro il quale il ministero della giustizia nel 2015 ha soppresso l'ufficio del giudice di pace della città della spigolatrice accorpandola a quello di Sala Consilina nei giorni scorsi i giudici della sezione di Salerno del Tribunale Amministrativo Regionale dopo l'udienza che si è svolta lo scorso 4 luglio attraverso coordinanza hanno deciso di acquisire dal ministero della giustizia una relazione di chiarimenti in relazione al superamento delle difficoltà organizzative dedotte dal comune di Sapri nel memoria di replica del 12 giugno derivanti dalla disponibilità manifestata dall'ARPAC in ordine alla mobilità di un proprio dipendente stiamo lavorando per riportare il giudice di pace a Sapri di cerato del sindaco Antonio Gentile anche coinvolgendo gli altri comuni del comprensorio con l'obiettivo di portare avanti una gestione condivisa anche per quanto riguarda i costi e il personale da impiegare nell'ufficio diversa invece la posizione del comune di Sala Consilina con il sindaco Cavallone che ha presentato un ricorso dopo Nendum affinché i giudici conferminano la validità del decreto ministeriale e lescino quindi a Sala la competenza territoriale sui comuni che una volta facevano capo alla giudice di pace della cittadina del golfo di Policastro questa la situazione Sanza verifica degli edifici del centro storico prosegue l'azione di verifica e controllo del territorio da parte dell'amministrazione comunale di Sanza il sindaco esposito con un'ordinanza ha fatto transernare anche un fabbricato in via Sant'Angelo a corte abbandonato da oltre 50 anni ospedale di Polla grazie a quanti hanno assistito Francesca riteniamo giusto rendere omaggio a quella fetta di sanità locale che tutti i giorni fa il proprio dovere con amore per il servizio che svolge per il prossimo questo è il messaggio della famiglia della dottoressa Mauccioni indirizzata all'ospedale Luigi Curto di Polla la dottoressa è prematuramente scomparsa all'età di 63 anni e il lavoro fatto dall'ospedale ha avuto gli elogi e i ringraziamenti da parte della famiglia in taglio basso sarà consiglina ecco il dizionario degli insulti per evitare le denunce una sentenza del giudice di pace ha condannato un 61enne del posto a pagare 1600 euro per essere rivolta ad una donna definendola in modo non idoneo allora nel dizionario in ordine alfabetico ci sono oltre 1200 termini insultanti per evitare appunto le denunce fatti e persone domenica domani domenica Michele Placido sarà ad Adena Lucana con lo spettacolo Letto di una piazza un libro per aiutare la ricerca sulla SLA sarà presentato un calcio alla SLA il prossimo 29 agosto a Sant'Arsenio mentre il prossimo 28 ad aprire Luci della Ribalta a Padula ci sarà Max Gazze infine dal 2 al 4 settembre a Sala Consilina in piazza Umberto I la quarta edizione dell'Octoberfest questi appuntamenti di Sala Consilina e del Vallo di Diano ora apriamo la pagina sportiva andando sul mattino mattino con il Napoli che deve risolvere la Graina Prepe Reina la porta chiusa Reina insiste per andare al PSG alta tensione con il Napoli non ci sono altri colloqui con il club che blocca Pepe fino al 2020 il manager Raiola Rivela l'ho suggerito al Barca ma è incedibile questo è il futuro di Insigne lo spagnolo invece titolare contro l'Atalanta possibile Blitz di De Laurenti in ritiro la situazione è abbastanza semplice nessun rinnovo presentato al portiere spagnolo di ritiro di Di Maro ora arriva l'offensiva del PSG che di fatti propone soldi ed eventualmente un portiere tra cui Alphonse Areola tuttavia il Napoli non vuole sentirci vuole trattenere il portiere fino al prossimo anno un errore non rinnovare il contratto nel ritiro di Di Maro ex calciatori e tifosi VIP si interrogano sul futuro del portiere corteggiato dagli ceicchi del club francese trovare la soluzione al più presto nessuna turbativa sulla stagione taglia la tela a fare finta di niente in una situazione simile è davvero una cattiva idea colpo brutto preso da De Laurentiis che pensava di poter trattenere il ragazzo fino a fine contratto ma il PSG gli offre due anni di stipendio ma perché De Laurentiis non si è cautelato con Cesni è la domanda che si fanno in molti il tecnico non può privarsi di un elemento di assoluta esperienza e di grande qualità per Iodice Pepe ma a Padigli dovrebbero cucinarti pasta e patata con la provola e con la diciamo la nota ironica del comico napoletano questa dunque la situazione i lunghi silenzi del fedelissimo poi Sarri spiazzato e arrabbiato nei mesi scorsi il tecnico aveva detto a De Laurentiis che sarebbe andato via con Reina dunque il ruolo attribuito allo spagnolo un peso rilevante all'interno del gruppo ma anche in campo con lui ci sono continui confronti e colloqui il portiere aveva rassicurato però in ritiro l'allenatore ma l'offerta del PSG sembra aver cambiato un po' le carte in tavola questa dunque la pagina sportiva del mattino ma ora parliamo di Serie B di Salernitana si parte per fortuna dopo tanta attesa il campionato cadetto prende il via oggi Salernitana impegnata in trasferta in quella di Venezia allora si parte Salernitana giù la maschera stasera il debutto con il campionato a Venezia con quattro volti nuovi in campo questo è il titolo della città questa mattina in retroguardia la novità Schiavi preferito a Tuglia in attacco Bollini e già Boccalon dipendente Auger disponibile ma spazio a Della Rocca questi ballottaggi e le scelte del tecnico sistema di gioco speculare per i Veneti in zaghi si trova Angelcovic ma resta con il 4-3-3 penso semi vuoto saranno in 5.000 andiamo a leggere allora la formazione della Salernitana che dovrebbe schiedarsi con Radunovic tra i pali Vitale Bernardini Schiavi e Pucino Ricci della Rocca Minala Sprocati Boccalon e Rosina intanto andiamo a vedere un po' la situazione sul fronte mercato portoghesi offre Sinci lo sponsor della Lazio Fabiani attivissimo sul mercato cerca squadra per Alex Roberto e Joao Silva ieri definito l'accordo con la Seleco che sarà il marcio anche dei Granata intanto ieri un rigorino aiuta il Parma all'esordio superata la Cremonese 1-0 con un discutibile penalty di Calaio dunque fa festa il Parma nella prima di B vincendo 1-0 con il rigore di Calaio e quindi è iniziato ufficialmente il campionato di Serie B bene noi con lo sport chiudiamo questa edizione della Rassegna Stampa vi do appuntamento alle 13.45 con l'edizione della Telegiornale io vi ringrazio per averci seguito vi auguro buon weekend e un buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.